buongiorno bimbe bentornate ciao tu hai fatto un super lavoretto per la festa del papà mentre tu l'hai fatto ieri vero? ti voglio tanto bene papà auguri per la tua festa d'anastasia ma che carino amore due cuori tre stelle due cuori vediamo meraviglioso amore va bene ma scusate un po è bellissimo amore bellissimissimissimo ma non avete fame? oggi siete appena uscite da scuola non mi state chiedendo la merenda tutto bene tu cosa stai mangiando? la cicca allora ho pensato di fare una merenda un po alternativa che se ne dite se facciamo uno snack oggi americano tutto americano eh Ani? sì cosa stavi pensando amore? sto guardando i miei compagni vane cosa ne dici ti va? eh visto che noi abbiamo questo negozio con tutti questi dolci e salati di tutto il mondo andiamo a dare una sbircettina andiamo allo di store andiamo vogliamo ok secondo me dovremmo prendere un cestino eh eh dai va bene vai amore io invece voglio assaggiare questo eh ma quello lì è cinese sono prodotti americani eh che dobbiamo scegliere questi sono i prodotti americani questi questo voglio assaggiare questo oh io avrei assaggiato questo invece il minio sala banana dai minio sala banana ok ok hai paura di che cosa di assaggiare e cose che fanno schifo sì sicuramente vane anche quella bibita non ho mai assaggiata quindi vomiterò quindi la dobbiamo assaggiare obbligatoriamente vediamo va bene cosa ho preso? quei biscotti lì io voglio prendere questi ok non so cosa sono questi qua guardate ok ciambelline sì va bene ma giusto qualche cicca eh sì infatti vediamo vediamo questi qua sono tipo delle chicche sono chicche c'è wingoon c'è scritto? vediamo dai allora popcorn alla coca cola alla frago oddio alla melo quale proviamo? al caramendo wow quale proviamo ragazzi? ok no dio mio che schifo vi prego alla frago va bene Ani? mmm che buone no volevo i miei scusa fammi ripresa dai no no ripresa proviamo? dai proviamo cosa hai visto Vane? tutte le pringles americane le pringles americane io adesso c'è quelle la alla pizza Ani? si proviamo alla pizza al bacon wow vedete voi che siete voi che dovete fare la pizza prendo io amore quindi pizza siete sicure? si oh le vai ok non voglio neanche usare che è? sono le ingossa la pizza forse sono le cose più normali che avete appena preso no ma guardate i popcorn qui no 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 guardate guardate tutte le patate le proviamo? è che questo è oro questo? ah il pollo quella delle kfc le proviamo? vai allora andiamo anche a vedere cos'altro c'è di qua? yes vediamo? proviamo questi va bene vai ah c'è delle cheese buone proviamo? questi si ispirano a me io dove c'è il cheese ci sono io io direi una cosa andiamo a prendere un'altra bibita l'ultima dai va bene e poi direi che possiamo andare a casa a far merella si infatti cosa hai visto? che cos'è? sono delle cose di spruzzo in bocca ah ok che gusto? questo qua quale gusto proviamo? non lo so sono tanti diversi questo blu scegliene uno a occhi chiusi dai tanto non ne conosciamo neanche uno vai dov'è? perfetto perfetto possiamo prendere da bere? ancora una cosa da bere? andiamo sei un nasinello? vai vai più veloce che puoi andiamo? sì ci sto ok è qua dai anni abbiamo scelto l'ultima bibita possiamo andare è vinto brava hai vinto eccoci qua fortunelle fatemi vedere il sacchettone è colmo eh andiamo a casa a far merenda? sperando di farla la merenda che almeno qualcosa sia decente secondo me sì 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 quelle palline che hai preso uno giro guarda che è per le biciclette non per le bambine come te pochette io un'acqua ciao ragazzi siamo tornati a casa e adesso saperemo una cosa merenda finalmente allora mettiamo fuori il pochettone alla torna e li mettiamo qua poi questi che li ha presi Anastasia di su tutto tipo delle cionbelline poi li assaggiamo perché non sappiamo nulla dobbiamo assaggiare tutto poi i biscotti che ho preso io molto buoni poi anche i biscotti che ho presi sono croccanti secondo me croccanti sicuramente sono croccanti poi queste cose che hai preso Anastasia no ma li ho voluti io perché io amo lo sneakers ma vuoi vedere che sono i più buoni di tutti? queste perché? queste qui le hai volute tu brava che sicuramente ah la buca per le battite così se qua la mangi esatto poi sempre questa che l'ho voluta io abbiamo cambiato colore spieghiamo perché perché erano tutte piccicose quelle blu sembrava che era uscito del liquido poi per le patatine al pollo KFC KFC brava le fringos alla pizza le fringos alla pizza che buone questi qua che sono io che secondo me piacciono anche la mamma sono tipo cosa sono? qua non lo sappiamo delle cose al formaggio i pretzel poi da bere la bibita la bibita cos'è? la bibita? gli M&M's agli M&M's la Coca-Cola la vaniglia il mio e quella di Anastasia la bibita alla banana alla banana dei Minions mettila qua mettila qua mettila qua che gian 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 e alla fine secondo voi quanto li ho imparato? esatto perché guardate un po' qua c'è lo scontrino e poi vi sveleremo quanto abbiamo pagato ma prima scrivete lo scelicchio io ho iniziato a scritto dalle cose più no allora io direi iniziare subito dalle bibite no? dal salato insieme alle bibite il dolce solitamente alla fine allora io non è legge però iniziare subito dalle fringos che sappiamo come sono però ho la pizza non è così vai dai spacchiamo con le fringos alla pizza allora aspetta ad assaggiare facciamo il tegno e poi facciamo se ne uscirò ma da quello mappi sono esplose le fringos guardate le guardate 3 2 1 dai ma sono buone mmm sono buone come sono? buone va Ani? mmm eh sì eh no è pizza gusto pizza allora ok promuoviamo le fringos alla pizza che sono fantastiche vero ragazze? è l'ultima vero che sono buone? no ma adesso basta adesso è una bibita eh sì ok proviamo quindi assaggio eh sì a te la fase non piace nemmeno la Coca-Cola normale mmm come va? allora dall'inizio anzi non me lo dirò no è buona è buona se vuoi ti faccio un bel bicchiere con il ghiaccio così la assaporiamo diversamente no non ti piace? ma è buonissima ok vai vai buoni sì fantastico è proprio così che si apri i sacchetti proviamo aspetta guarda quindi questi sono quelli che io penso siano i pretzel però al formato no è che schifo come è che schifo no che delusione ok adesso dovete sciacquarvi la bocca questa qui questa qui quindi Minions Banana va bene oddio guardate lì ma è frizzante? ma ti assaggio ragazzi ma la Stasia non piace niente di ciò che è frizzante sai io oddio sì non è frizzante ma di cosa doveva sapere passa amore prima il salato dai ci siamo quasi credo sia l'ultimo l'ultimo salato sembrano patatine classiche sono patatine classiche gusto però pollo arrosto tre due no buono buono non sanno di di pollo arrosto no non sanno di no vediamo guardate Anastasia con quale voracità anche le dita delle mani si sta mettendo in bocca è affamatissima ma sono leggermente pittanti no vero? Anastasia vuoi bere l'acqua? bevila puoi berla eh un attimo e apriamo tutto allora Anastasia sei pronta? iniziamo dal dolce che sceglie Anastasia che ha scelto Anastasia potrebbe esser sì vediamo un po' sembra non schifosi aspetta mi voglio assaggiare insieme no eh non sono bruscini sono croccanti sembravano bruscine morbide come? niente io c'ho ancora il gusto della pizza del pollo arrosto ma non sono buono non sono mai come sono Ani? io no no no? allora la pasta che lo assaggio niente Ani hai visto? sembravano delle bruscine invece sono dei biscotti e non sono buoni è vero poi sembravano più grandi allora vai Danè biscottini croccanti questi secondo me sono buoni invece questi mi ispirano un sacco buoni? io lo so già ma non c'è anche il gusto eh vabbè allora dovete bere buoni? vabbè diamogli il tempo un attimo di assaporare oh meno male almeno questi adesso li assaggio un attimo eh volevo sapere il parere di Vanessa buoni? non è la fine del mondo brava brava Vane ottima scelta questi sono buoni sì mi piacciono delicati non hanno un gusto particolarmente importante forte sì ok sono rimasti 4-5 prodotti da assaggiare più la bibita alle M&M's io voglio assaggiare questi ok assalti apri non aprirli così amore impara ok vabbè dai ma questi si sa che sono buoni secondo me facciamo la metà 1-2-3 no io sì no li hai scelti tu Vanessa no niente no a te piacciono bene la vera ricetta americana bene non andremo mai a mangiare in America allora io ho il provare la bibita va bene ci sta però ci pensate cioè per me dentro c'è l'acqua con le otre ma no non ci sarà beh non lo so bisognerebbe leggere gli ingredienti ma è meglio non pensare a quello che c'è in quello che ci mangiamo Vanessa non pensare a niente mangio e basta io invece non vedo l'ora di assaggiare questo ma ma non tiro il tappo che non riesco vieni anch'io no ecco perfetto tre non esce esce o non esce non esce forse dentro c'è la c'è da togliere ecco bravi scherzetto ma è possibile che devi usare i denti per qualsiasi cosa i denti non si usano oddio mio fa vedere ecco qual è il problema ma scusa è cioccolato è come il last week latte last week pronti vabbè vabbè niente no aspetta 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 dove vai aspetta si ma perché è un gioco schifo poi non fa buono niente non ha voluto aspettare no fa veramente così schifo eh proviamo incredibile eh come sa di nocciolina tocca a me vai anni sneaker si speriamo che sono buoni altrimenti che delusione che sarà per me che delusione da qua c'è solo che adonastasia piace distruggere qualsiasi cosa eh non si piace mi dispiace adios ah ma dice che c'è la tua ma sono te madonna wow wow speriamo no non sei convinta ne ma dai qui dai c'è tipo aspetta madonna mia ma sembra dai assagiate no no mamma mia quando me li date così oddio ma veramente ma si sa già eh non c'è più eh ma sono un po' preoccupata assaggia non so proprio di sneakers ma per niente ah perché so perché io no no mi piace c'è vero che non sa di sneakers fa niente no sa di sneakers vale tutto zucchero eh ok si diciamo che non è il massimo però mi aspettavo qualcosa di diverso scendo ho scora la fragola troppo curiosa oggi sono di bocorna e la fragola tre due uno no la staglia lo mangi come se fosse un palino ma si che sono buoni come sono? particolari sì ma sono dolci? sì buoni buoni particolari oh lo spray ragazzi mancano solo due cose eh lo spray no e queste? anche queste non le abbiamo ancora mica assaggiate ma questo non mi spiega per niente viva i denti convenzione col dentista dopo questa challenge mamma mia ragazzi la cosa più sbagliata che ci possa essere non fatelo mai non usate i denti per fare niente i denti servono solo per mangiare e masticare non per aprire è buono no è buono buono? la mia di cosa sa? di frago di? fragola 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 di zante ma te piace? bene bene dai adesso è gli ultimi ok dai gli ultimi che non ho capito se sono cicche o sono non lo so c'è scritto c'è wing un crue in teoria dovrebbero essere delle cicche ve li do ti piacciono così tanto? ve lo dico io che cosa? che intrettissimo vai vai Ani ti tocco infatti quando ho perso ho sentito sto no 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 prova prova devi assaggiare per forza eh sì ho assaggiato ora un pizzante vai ho assaggiato ma sì ma poi passa mi sei fatto che regalo questo no è tutto in bocca no dai ma schifo no posso subito non è tutto in bocca dai dai su nonna mia che coraggio ma che coraggio hai cosa non te le regalo? devi essere super coraggiosa ma guarda che l'ho massiccato eh ma basta dai provo io dai dai vi faccio vedere come si fa ma è una caramela o una cicca alla fine? cicca cicca hai visto? hai visto che devi essere più coraggiosa devi usare un po' di più nella vita? comincia a piacerti? adesso ne vuoi un'altra? vado? vai pronta mamma vai dopo che potenza aspetta ma è amarissima ma chi è che fa chi è che mangia queste schifezze? dopo è dolce però ma mi ha sopravo parola verde ma che strana ma è una caramela ma dopo è buona si è sciolta finita l'inizio è traumatico ah quindi ci sono di diversi colori giallo verde e rosa ma sai che è buona? no dove? peccato che si appiccica i denti sì dove è? meno quella verde ma dai allora scusate qua c'è scritto c'è ah no c'è 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 ah no caramella questo è proprio quella gel si può quella gel perché non la mangi? è frizzantissima come è frizzantissima? passa subito mamma mia passa subito sembra una una condanda quella verde è alla mela alla mela verde malissima l'inizio poi è buona vai gialla comunque sono buone alla fine ah la stai mangiando qual'è questa? quella gialla limone no limone impensabile lo sapevo perché già sono amarissime sono frizzantissime amare e aspre va bene voglio dimostrarvi quanto sono coraggiosa e la provo anch'io però ho paura Anastasia sta vomitando signori ma sai che è quella meno schifosa? no è la verde no questo Ani si è preso il biscottone va bene bravi ragazzi abbiamo finito la challenge guardate un po' è tutto qua peccato per questi sneakers che mi aspettavo qualcosa di meglio com'è che fanno? schifo dei voti queste mi piacciono dai diamo il voto queste 9 anche io gli do un bel 9 sai perché la faccio nello stesso quando adesso non lo no no mi piace 8 vabbè dai è già un bel voto coca cola 7 questo 6 10 10 e 2 e 2 8 buoni questi anche un 9 questo 4 quelli quali erano? ah i biscotti quelli al cheese al formaggio 4 ma no un bel 7 io glielo do 4 7 e meno questo 2 1 no 7 e meno non è che non piace questa banana 5 dai 6 6 6 dai 4 9 e gli sneakers 1 meno meno ho questo un 8 no è meglio se ne ho portato la mia acqua 5 5 pop corn devo dire 10 devo dire 8 no 8 8 hai idea del valore del numero? 2 6 ok 0 10 10 10 10 cosa è successo? eh scusami eh 10 10 10 20 no 20 poi 20 eh portalo a scuola domani ma grazie amore prego eh 19 19 no no 0 0 0 0 0 0 0 0 perché è buona poi MMS 1 1 fantastica banana minio 3 3 questi biscotti 1 ok ragazzi la challenge è finita eeeh dobbiamo svelare il costo di tutti questi articoli tu hai già visto il prezzo? mmm quindi non puoi indovinare 39 euro virgola 56 39 euro e 56 centesimi per aver mangiato queste cose scicose quasi tutte se non è il mio piacere se iscrivete al canale se non è la campanella in americano se la challenge è no campanella iscrivetevi al canale attivate la campanella like un bel like a questo video ciao no 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 you like video yes subscribe to our channel and pat like bye chissà cosa abbiamo detto ciao ciao è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare papbo natale non ci vedo niente di male presto nastasia corriamo giù mamma non ci vedo